Urris ha raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Stefano Esempio. La società, fiera di averne accompagnato la maturazione del settore giovanile alla prima squadra fino alle ultime due stagioni tra i professionisti, ringrazia il calciatore per il senso di appartenenza dimostrato l'impegno provuso nelle 150 gare disputate in Maia Coralina tra Serie C e Serie D. In Casa Potenza, dopo il passaggio societario, è tempo di scegliere il nuovo allenatore. Cinque i nomi sulla lista, Bruno Caneo, Mirko Cudini, Beppe Scienza e Roberto Cevoli. Valutazioni e nomi che potrebbero chiaramente lasciare il tempo che trovano proprio in virtù del fatto che Macchia ha intrapreso la strategia del silenzio, del lavoro sotto traccia che di punto e piango potrebbero venire fuori ben altre sorprese. Orientativamente, entro questo fine settimana, potrebbero esserci le prime novità. In Casa Catanzaro, dopo il passaggio di Alfio Pelliccioni al Monopoli, si cerca un nuovo direttore sportivo. Naturalmente, perché ciò accada, è però preventivamente necessario mettere al posto tutti i tasselli. E mentre continuano le autopromozioni, sarà solo dal faccia a faccia, tra proprietà e dirigenza, con probabilmente anche il contributo di Vivarini, che uscirà il candidato giusto nel casting in corso. Ivano Pastore continua ad essere un uome caldo, ma oltre a quello c'è anche quello dell'ex calciatore giallorosso. Non mancano numerosi e altre ipotesi che riguardano, tra gli altri, l'ex responsabile del settore giovanile del Torino, Massimo Bava, l'ex direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, e l'escente uomo di mercato della Ferrari Salò, Oscar Mangoni, il protagonista della scalata del Pisa, Massimo Gemmi, e poi ancora la posizione più defilata dell'espertissimo Angelo Fabiani, che ha concluso lo scorso inverno la sua esperienza alla Salernitana.